Mi chiamo Elena, sono venuta in Italia nel 2003 e subito dopo ho iniziato a lavorare con una gastronomia importante dove ho imparato la cucina italiana, le tradizioni e quello che riguarda la ristorazione. Nel 2008 ho aperto un'attività di alimentare e gastronomia dove ho esercitato fino all'anno scorso aumentando con la licenza di ristorazione e somministrazione. Nel anno scorso abbiamo aperto a Solomeo un ristorante agricolo. Io sono nata in campagna e insieme a mio papà abbiamo sempre fatto i formaggi, le salsicce fresche, ammazzato il maiale, le ocche, le anatre, tutto quanto. La mia idea dopo 17 anni di ristorazione era di portare in tavola proprio questo, l'esperienza di avere un'azienda agraria che produce le materie prime sue e gli dà la somministrazione direttamente. E' un po' l'idea anche della scelta del fornitore. I nostri fornitori sono sempre quelli che scelgono le carni di allevamento allo stato brado, il fieno biologico, queste cose qua. Quindi la nostra intenzione è di portare in tavola tutti i prodotti umbri della tradizione, tutte le aziende umbre, dal vino ai legumi, alla farina, alle carni e tutto quello che riguarda la produzione qua in Umbria. Siamo sempre in ricerca di prodotti nuovi, di materie prime molto buone, di produttori che si distinguono per come scelgono le carni, per come scelgono la stagionatura, per i mesi del prosciutto. Abbiamo prosciutti da 12 mesi, da 24, abbiamo un prosciutto di cinta senese, come di scrofa. Molto importante, oltre il prezzo, la fornitura, non deve essere mai troppo grande. Una fornitura deve essere necessaria per pochi giorni, una settimana, non più. Deve avere un modo di conservazione. Dentro un ristorante ci deve avere una cela o un frigorifero adeguato, non troppo umido, non troppo secco, per il mantenimento di questi prodotti. Tagliamo il prosciutto a coltello, quindi i prosciutti troppo morbidi non sono facili da lavorare. I prosciutti troppo stagionati sono sempre molto difficili da lavorare. E' molto importante anche la fornitura, che sia rapida. Nel momento in cui chiami il tuo fornitore arriva in mezza giornata, ti può portare il prodotto che ti serve, la conservazione del viaggio. Il macellaio mi porta le carni con il forgone frigorifero dell'azienda sua, quindi non devo adeguare una macchina mia per andare a prendere le carni. Ce l'ho consegnata in un modo giusto, a una temperatura giusta, grazie al fornitore. Anche il ritiro nel caso un prodotto magari non ti dà sicurezza, a te non piace semplicemente la disponibilità di chi ti fornisce di ritirare il prodotto o cambiarlo. Ognuno di noi ristoratori abbiamo delle richieste specifiche. I salumi in un certo punto di stagionatura, indifferente se 24 mesi o 36 mesi siano davvero da cartellino, a volte non basta un'etichetta. Ci sono prosciutti che la vi dopo 24 mesi e sembrano 12 mesi. Chi li lavora tutti i giorni se ne accorge, quindi spesso bisogna fidarsi di dare un servizio giusto. Quando il ristoratore chiama e si lamenta, una volta, due volte, prima o poi prende i provvedimenti. È importante che si tenga fede agli accordi già presi, che una volta che consegni un prodotto sia sempre nello stesso modo, la stessa qualità, sempre. A volte si lavora troppo, si corre tanto. È quel momento che si sbaglia tanto, perché devi fare sempre più, sempre più. Quindi a un certo punto non arrivi. rispettare i tempi è giusto per chi prende e chi dà. Questo è il giusto valore della passione che ci mettiamo sul nostro lavoro. È molto difficile riportare critiche a una persona che per 365 giorni fa l'allevatore di animali o l'agricoltore. Dalla parte mia, che sono il ristoratore, semplicemente vendo, sono il commerciante. Per chi produce è importante ogni giorno andare avanti e mantenere la stessa qualità, non è semplice. La stessa passione che abbiamo noi, che aprimo le porte dei nostri ristoranti per i clienti, la deve avere chi produce. Ci unisce davvero un'unica cosa, il lavoro che facciamo ogni giorno. I rapporti che abbiamo sono per anni, 15, 20, 30 anni. Molto spesso noi ristoratori siamo i promoter del produttore. Il nostro macellaio, quando ci porta le carni, mi raccomando ai clienti. E poi, dopo mesi, dopo anni, i nostri clienti diventano i clienti del macellaio. Quindi da un cliente puoi arrivare a avere 100. Sei veramente il promoter del macellaio, della norcineria, della viticoltura. Grazie a tutti. Grazie a tutti.